Tutto pronto ormai? Parti! Un po' in ritardo il break, pensieri e parole, nulla comunque di particolarmente grave, mentre Veloce Arrivederci che va subito a prendere la corda. A largo rimane Magic Paco con Kanchenjunga che in giubba arancio segue la stessa Arrivederci, mentre Pensieri Parole avanza subito con la giubba bordosca, valcando Magic Paco e proponendosi all'esterno di Arrivederci. I due più attesi in linea tra i due Kanchenjunga, ma c'è anche Magic Paco con i quattro che sono virtualmente sulla stessa linea. Arrivederci con il cap rosso in corda, con la giubba bordosca e il cap bianco, pensieri e parole che a metà corsa si porta vicino la sua avversaria. Più dietro Kanchenjunga in giubba arancio, a largo in giallo-nero Magic Paco. Sempre Arrivederci in leggere evidenza, Pensieri Parole che adesso si fa sotto in maniera più convinta, il 400 finale, poi Magic Paco e Kanchenjunga con pensieri e parole che insiste, rispetto ad Arrivederci e passi in vantaggio, pensieri e parole che allunga su Arrivederci, a primo traguardo, pensieri e parole che va su Arrivederci che viene superata anche da Kanchenjunga nell'ultimo tratto in chiara evidenza, pensieri e parole, pensieri e parole che stravince il bimbi. Al secondo posto Kanchenjunga, poi Arrivederci e Magic Paco a chiudere il quartetto. Pensieri e parole non delude, grande successo per questo Sidenxel, Dario Vargiù che apre pomeriggio per la scudoria Cocktail ai colori, il signor Grizzetti al train. Pensieri e parole, adesso le sentiremo allora anche i pensieri e le parole del team del vincitore. Prosegue allora da imbattuto il figlio di Exidenxel, Dario Vargiù per la Cocktail in pressione esterna, perdendo ancora una volta la partenza a un paio di lunghezze, andando su Arrivederci, che ancora con coraggio ha provato a giocarsi la corsa, nel finale stacca pensieri e parole.